Per sordi avrebbe accoltellato all'altezza del cuore un 32enne marocchino la sera del 26 marzo nel corso di una lite davanti a un bar di via Pistoiese a Firenze, ferendolo in modo grave. Per questo un 45enne fiorentino è stato arrestato per tentato omicidio ieri dalla squadra mobile della polizia. Il 45enne impiegato come corriere presso una dita di spedizioni sarebbe stato visto da alcuni testimoni mentre con la divisa dal lavoro ancora addosso aggrediva il marocchino per poi darsi alla fuga a bordo del furgone con però il nome sopra dell'azienda. Aveva allestito un vero e proprio laboratorio per la coltivazione di marijuana all'interno della sua abitazione a Guasticce nel Livornese. Per questo un 52enne originario di La Spezia è stato denunciato dalla Guardia di Finanza a Livorno per produzione e detenzione ai fini di spaccio. All'interno della casa i finanzieri insieme alle unità cinofile hanno rinvenuto una serra allestita con lampade termiche, sistemi di ventilazione e filtraggio degli odori, misuratori di acidità e tutto il necessario per coltivare marijuana. Trovate anche quattro piante alte 1,70 metri e 70 grammi di hashish. Un 23enne di Montespertoli in provincia di Firenze di origini albanesi è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito il padre e minacciato la madre. Il giovane però non sarebbe stato nuovo a comportamenti vessatori nei confronti dei genitori. Iniziati già alla fine del 2017 avrebbero avuto come vittima anche il fratello minore. La scorsa notte ha colpito il padre con calci e pugni provocandogli ferite al volto. È stato un fratello minore a chiedere ai militari di intervenire. A loro arrivo il 23enne ha sferrato un pugno contro una parete come gesto di ira e si è procurato due fratture alla mano destra. Il giovane è stato prima portato in ospedale ad Empoli per le medicazioni e poi nel carcere fiorentino di Sollicciano. Un mese di sospensione, sette incondotta e lavori sociali. Così saranno puniti i quattro ragazzi responsabili dell'episodio di bullismo dello scorso 28 marzo quando di mattina durante l'assemblea d'istituto del liceo artistico Petrocchi di Pistoia sul tema appunto del bullismo avevano preso di mira una compagna che si era ubriacata di prima mattina umiliandola con scritte in faccia, scotch sulla bocca e sui polsi e tirandole addosso rifiuti. In tutto sono otto gli studenti sanzionati, tra loro anche la quindicenne che si è ubriacata. La decisione arriva dopo il consiglio d'istituto che si è svolto ieri pomeriggio nell'istituto pistoiese presieduto da Elisabetta Pastacaldi. Maxi controllo ambientale coordinato dai carabinieri della forestale nella zona del cimitero di Paperino a sud di Prato nota per le numerose discariche abusive presenti sul posto polizia municipale e carabinieri anche con l'aiuto di un elicottero e unità cinofile. Solo due settimane fa nell'area interessata dal blitz di Stamani è scoppiato un incendio che ha attaccato materiale plastico, masserizie e anche vecchie roulotte stoccate da tempo in via del Pozzo. Insomma da tempo i residenti della frazione lamentavano non solo la presenza di rifiuti ma anche continui roghi notturni utilizzati probabilmente per distruggere l'immondizia. Ha partecipato all'operazione anche Arpat per le indagini sui terreni alla ricerca di contaminazioni. La stazione Foster della TAV a Firenze serve soprattutto perché libera tutti i binari di superficie in modo da poter realizzare la metropolitana dell'area fiorentina dal Valdarno a Retino fino al Pistoiese coinvolgendo anche il Mugello. Lo ha affermato Dario Nardella, il sindaco di Firenze, durante un convegno promosso da CGL Firenze sulla cura del ferro per l'area metropolitana. Nardella ha parlato di una metropolitana con treni leggeri fino a 400 passeggeri che possano passare ogni 10-15 minuti e che si colleghi con le linee della tramvia. E' possibile, secondo il sindaco, in questo modo ridurre da 200.000 a 100.000 i veicoli privati e del 30% il traffico su tutta l'area metropolitana. E bus tramvia e treno a Firenze nei comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, la strassigna Sesto Fiorentino e signa dal prossimo primo giugno. Si potrà viaggiare con un unico ticket su tutti i mezzi pubblici. Entra in vigore, infatti, tra pochi mesi il cosiddetto biglietto unico metropolitano. Nuovo titolo di viaggio mensile per il trasporto pubblico. La misura è stata approvata dal Consiglio della città metropolitana di Firenze. Costerà 50,41 euro per chi ha diritto alla tariffa agevolata in Sè. E il mondo della nautica si dà appuntamento per la terza volta a Viareggio con il Versilia Yachting Rendezvous, il salone espositivo dedicato all'alta gamma, organizzato da Fiera Milano in collaborazione con Nautica Italiana e con il distretto tecnologico per la nautica e la portualità toscana. Le darsene di Viareggio ospiteranno dunque dal 9 al 12 maggio espositori e produttori italiani e stranieri con novità e riconferme che ben fotografono la solidità di un comparto che vale 3,88 miliardi di euro. Nuovo allestimento per il Chini Museo di Borgo San Lorenzo, provincia di Firenze che riapre al pubblico dopo un investimento di 70.000 euro il 6 aprile. Tra le sezioni interessate dai lavori, Chini Contemporary, Museo dei Bambini e Chini Museo. Al piano superiore di Villa Pecori Geraldi, dove è esposta la collezione permanente del Chini Museo, dunque si propone un nuovo percorso espositivo. E dal primo maggio chi adotterà un cane o un gatto del canile o del gattile comunali avrà per il primo anno la fornitura di cibo. Ad annunciarlo ieri il sindaco di Prato Matteo Biffoni e l'assessore Filippo Alessi durante un sopralluogo al cantiere di riqualificazione dell'oasi felina La Bogaia. Il premio in scatolette croccantini è frutto di un accordo tra l'amministrazione e la fondazione Almo Nature per favorire l'adozione dei gatti in modo da rendere il loro soggiorno nelle strutture comunali il più breve possibile. E veniamo alle previsioni del tempo per domani in Toscana, molto nuvoloso o coperto con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Attenuazione dei fenomeni in serata. Per quanto riguarda la neve, sono previste nevicate oltre 1500 metri, però con quota neve in progressivo calo, fino a circa 900 metri nel pomeriggio. I venti, forti i venti di scirocco in mattinata e invece di libeccio dal pomeriggio. I mari sono molto mossi o localmente agitati per quanto riguarda le temperature, minime in ulteriore aumento, massime in calo, valori minimi che si potranno registrare in serata. Per questa sera è tutto, grazie per averci seguiti, arrivederci!